Un incendio boschivo si propaga nelle zone antropizzate e oltre ai servizi antincendio richiede l'intervento dei servizi sanitari e l'evacuazione della popolazione. Non preoccupatevi, è solo lo scenario di un'esercitazione, la Basilisca 2021, un banco di prova per l'apparato di protezione civile e per integrare nel dispositivo le componenti dell'esercito che sempre più partecipano ad attività di questo genere. Teatro della simulazione Ruoti dove in Contrada Cerreta alle ore 8 di mercoledì inizieranno le operazioni. Stamattina in prefettura ultima riunione organizzativa per un test che coinvolgerà le strutture della protezione civile di potenza e di ruoti, vigili del fuoco, le forze di polizia, il 118 e l'esercito con il comando regionale Basilicata sotto il coordinamento del comando forze operative sud. L'idea di questa esercitazione è nata in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria da parte del comune di potenza all'esercito e devo dire con celerità grazie alla fattiva collaborazione dell'esercito si è potuto già organizzare questa prima esercitazione. L'esercitazione in programma è una delle quattro simulazioni che si conta di effettuare nel corso dell'anno e che fanno parte della Basilisca 2021. Diversi gli altri scenari previsti, un'esondazione del basento, un sisma ed un incidente ad un impianto industriale. Scenari che oltre a verificare l'efficienza dei piani di emergenza predisposti servono anche ad informare la popolazione sui rischi del territorio.